Gorilla è il veicolo che scoperta gli istinti primitivi e noi ogni giorno sopprimiamo sempre di più. La famiglia è una famiglia molto moderna, vuol dire che si parla poco e questo Gorilla riunisce la famiglia perché fa riscoprire un rapporto più primordiale. Il Gorilla mi insegna a crescere i cuccioni praticamente, quindi mi avvicina a me stesso. Luca è una persona molto molto spiritosa e si vede anche attraverso le sue sceneggiature, quindi molto spesso mi leggo e mi piace e sono soddisfatto, però sul set nella maniera più assoluta tipo io e Lillo ci confrontavamo con Luca su possiamo farla così, io in un altro modo e collaboravamo a renderla più divertente ancora.